Ciao a tutti, siamo gli alunni e le alunne della seconda B della scuola secondaria di primo grado Pascoli di Montepulciano. Stiamo cercando qualcuno che adotti un nostro grande sogno di solidarietà e ci aiuti a trasformarlo in realtà. Il progetto Copertine, vestiti di storie, vestiti di solidarietà, è partito con una call to action, ovvero un invito ad agire per sostenere l'idea nata in una classe della scuola media Pascoli di Montepulciano, per aiutare i loro coetanei della Romagna, sommersa dall'alluvione. Abbiamo pensato di produrre, vendere magliette con su sopra, stampe di copertine di libri. Per partire però dobbiamo risolvere alcuni problemi, come avere diritti dalle case editrici, trovare qualcuno che ce le vendesse e qualcuno che ce le stampasse. E sono stati ragazzi a mandare mail alle case editrici, a contattare gli autori, a trovare un rivenditore di magliette ecosostenibili, a preparare la grafica e la campagna social che sta accompagnando il progetto. È un progetto utilissimo per i ragazzi, un progetto che gli sta facendo crescere molto, che gli sta facendo capire che gli adulti sono degli alleati, che li possono aiutare a realizzare i loro sogni e soprattutto che loro possono davvero partire dai loro sogni per far diventare migliore il mondo in cui vivono, nel presente e nel futuro. Eccole qui le magliette, che è già possibile ordinare sul sito libriparlanti.org, per coronare gli sforzi di questi piccoli, grandi imprenditori di solidarietà. Grazie a tutti.